... Sai, qualche volta vorrei dirti che ti amo. Non ti sembra una parola troppo importante per definire una simpatia? Ma tu per me sei molto di più di una simpatia. Se fossimo soli ti lasceresti baciare. E tu che cosa dici? Io dico di sì. Buonasera, buonasera a tutti. Davide Olean, Pacilio Art. Questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi una donna eccezionale, straordinaria, grande attrice, scrittrice, Laura Efrican, una donna conosciuta e affermata in tutta Italia per i suoi musicarelli degli anni Sessanta con Gianni Morandi, Bobbi Solo, Caterina Caselli. Ciao Laura, è un onore e un piacere averti qui al Teatro Comunale di Casalnuovo per una serata di solidarietà per l'Africa. Cosa rappresenta per te l'Africa? L'Africa è stata una scoperta di quando ero già avanti con l'età, insomma. E oggi sai, il cuore diventa più tenero invecchiando. E lì in Africa ho visto delle cose che non potete immaginare, perché anche qui ci sono bambini che hanno bisogno, famiglie che hanno bisogno, però non ci sono le capanne di fango, qualche medico, c'è una croce rossa. Cioè lì non c'è veramente niente, niente di niente, solo il bush e queste capanne. E quindi io non potevo rimanere insensibile, mi sono data da fare e ormai da dieci anni faccio avanti e indietro, raccolgo soldi, vado lì, faccio un pozzo, mando bambini a scuola, tiro su un asilo, insomma faccio quello che posso. E questo ti fa un grande onore, perché tu sei una grande donna, una persona molto umile, una signora che dà esempio ai giovani, quindi i giovani dovrebbero prendere esempio da questa grande nobile donna, che è Laura Efrician. Laura, tu sei arrivata a Napoli, hai avuto una bellissima accoglienza qui nel Teatro Pasolini, che impressione ti ha dato questa gente che si ricorda, è venuta per te perché si ricorda i tuoi musicarelli? Sì, ma intanto devo dire che Napoli e logicamente anche i suoi dintorni, Napoli è un po' la città che mi ha tenuto sempre a battesimo, io ho cominciato in teatro qui, in televisione qui, poi ho fatto i film a Napoli, Napoli proprio è una città che a me sta nel cuore. Il tuo primo film? Sì, il primo film era con Bobby Solo ed era comunque qui a Napoli, poi gli altri, e poi la gente è calorosa, affettuosa, spiritosa, è un piacere, è sempre un piacere venire qui. Già io quando comincio a sentire parlare napoletano sto bene, mi piace molto, mi piace molto questo posto, diciamo tutto, Napoli ed intorni. Napoli è bella, le isole, il mare, il sole, il Vesuvio, le grandi opere culturali, gli scauti Pompei, di Ercolano, Pestum, insomma c'è tutto, c'è cultura, tradizione, tutto. Laura, tu sei anche scrittrice, ultimamente è uscito, o sta per uscire un libro, L'Olmo e L'Edera. L'Olmo e L'Edera è già uscito, però è una nuova... La vita non ha età, la vita non ha età, che è il seguito, perché nell'Olmo e L'Edera raccontavo la storia della mia famiglia, che è una storia complicata, perché comunque il cognome frichiano chiaramente non è un cognome italiano. Mio nonno era armeno e proprio colgo l'occasione per dirlo, quest'anno, il 2015, è il centenario dell'olocausto che hanno subito gli armeni. Un milione e mezzo di uomini, donne e bambini uccise, l'anno della memoria e poi ci sarà anche il giorno della memoria, che è il 24 aprile, giorno in cui è scoppiata la carneficina. Per questo devo dirlo con un piacere incredibile che Papa Francesco, il giorno 12, quindi dopo domani, ha invitato gli armeni a una messa armena in San Pietro e questo è un grande passo, è il primo Papa che ne parla in questi termini. Ok, allora tu stai parlando degli armeni, un milione e mezzo di persone uccise dai turchi, il genocidio, un crimine contro l'umanità e tu non è stato uno dei pochi fortunati che è riuscito a scampare a questo genocidio, si rifugiò a Venezia, all'isola di San Lazzaro. Sì, sì, il nonno riuscì, era piccolino, ma riuscì lo stesso a scappare e comunque qui in Italia sono stati accolti bene, anche perché la natura degli armeni non è una natura violenta, si sanno integrare bene e hanno trovato in Italia, ma non solo in Italia, in Francia c'è una colonia di armeni grandissima, è quella più grande di tutti, è quella che c'è in America, perché poi gli armeni sanno districarsi in mille cose, sono stati dei grandi mercanti, sono stati dei grandi agricoltori, molte vigne, le vigne erano famose, infatti io il 24 andò al comune di Alessandria dove si comincia a fare un orto della pace, dove si comincia a piantare una vite e chissà che insomma porti bene. Laura, è vero che gli armeni sono stati dei grandi commercianti e sono riusciti a fregare, non c'è stato un turco che non è stato fregato da un armenio? Tu lo sai che queste minoranze che hanno questi destini, perché dall'inizio e da quando Roma andò a conquistare i parti, mise sotto l'Armenia, da secoli sempre in battaglia si acquiscono tutti quei sentimenti, quegli accorgimenti per cui cerchi di fregare il prossimo, ma non è che lo freghi rubandogli, è che loro hanno imparato a fare i tappeti che sono più belli di quelli dei turchi, loro hanno imparato a fare tante cose sempre meglio, infatti c'è la favola che dice per fare un armenio ci vogliono sette genovesi e sette ebrei. Ok, Laura noi ti ringraziamo, ti diamo un in bocca al lupo, alla prossima, ciao Laura. Mi metti a cercare l'amore eterno, lo trovai una sera d'inverno, era gentile e raffinato, mi avevo un cuofone mazzato, è l'uomo giusto io pensai, lo shh, forse non lo lascio mai, non vedi in tempo, sapete perché? C'era la moglie. Buonasera, buonasera a tutti da Videoline Pacilio Art, ci troviamo al Teatro Pasolini di Casal Nuovo con una grande artista showgirl soprannominata la Totò Ingonnella, più volte premiata in tanti premi importanti e di spessore, lei è regista, sceneggiatrice e attrice di Ischia Forever, Lucia Cassini, eccola qua, ciao Lucia. Si tiene i capelli e la testa, ciao a tutti. Lucia, allora come sta andando Ischia Forever con tanti artisti famosi come Carlo Croccolo, Francesco Paolo Antoni. Beh, sta andando molto bene, sono alla quarta puntata, nonostante a Napoli, già l'ho detto proprio in questo video, sia molto difficile andare avanti perché io non so perché, tu fai delle cose per Napoli, invece di essere contenti, darti una mano, ti danno addosso, ti fanno la guerra, non lo so, credetemi, non lo so. Allora io torno indietro e penso a Viviane, quando Viviane diceva, diceva, fui da vende perché praticamente, diceva pure tu altro, però Viviane diceva, è meglio non stare in casa propria perché ti trattano male, bah, ci sta quel campanilismo, quella poesia che da là si capisce tutto. Io sono contenta, invece di, sono rimasta nella mia città, pur vivendo pure a Roma, però diciamo... E dici velocemente di Ischia Forever, cosa tratta, chi sono gli attori? Ischia Forever è una fiction straordinaria perché non si parla di Camorra, non si parla di Ischia, di turismo e di altre cose, però è con tutte storie d'amore. Le storie d'amore partono da attori importantissimi come Carlo Croccolo che fa mio padre, Liliana e Curtis e tanti, attori giovani c'è Gino Riviecio, Francesco Paolo Antoni, ma sono tantissimi, ultimamente Patrizio Rispo e poi ci sono un sacco di attori giovani, Teresa Anna, c'è lui che ha fatto già girato, ha già fatto una parte, però adesso voglio fare qualcosa di più perché ogni tanto c'è qualcuno che... ma pure a te, magari appena facciamo quella scena dei premi, dei grandi premi, a lui lo mettiamo a presentare, è giustissima la tua parte. Niente, poi avevo detto queste tre ragazze splendide. Sì, vogliamo dire i nomi? Sì, Marinella, Anna Rosa, Teresa. Sì, che sono stato lontano da me perché sono due metri con tutti i taccoli, però le vorrei far partecipare, ho detto venite a fare i provini perché approfitto della tua bontà, stiamo facendo... quando vedete i provini, facciamo i provini perché sono dieci puntate, noi stiamo alla quarta, ogni puntata, io cerco di mettere gente dentro che mi fa piacere, dà la possibilità a tutti quanti. Questo è Schiaforevere, questo è Lucia Cassini, io faccio sempre teatro, cinema, televisione, lavoro, faccio anche le serate. Ok, adesso lo vediamo a teatro dopo. Io ti voglio bene. E voglio bene a tutti quanti. Smockete da Lucia Cassini. Allora salutiamo Videoline e Sud Online. Videoline e Sud Online. Ed è buono che Sud, noi siamo del Sud. Seguite, seguite, seguite. Seguiteci, ciao. Buonasera, siamo qui con l'assessore Richiello del Comune di Casalnuovo. Buonasera a voi, buonasera a coloro che hanno organizzato questo bellissimo evento. Abbiamo il piacere di avere con l'organizzatore Ralf Stringile personaggi importanti del mondo del spettacolo, della musica di livello nazionale, come la nostra famosa Laura, il nuovo spettacolo di beneficenza per l'Africa e quindi il Comune di Casalnuovo ha dato il patrocinio a uno dei tanti eventi che in questi cinque anni hanno caratterizzato l'amministrazione. Abbiamo cercato di dare tutto il nostro contributo affinché questa manifestazione si potesse svolgere il modo migliore possibile e voglio ancora ringraziare l'autore, colui che ha creato, colui che ha curato, colui che ha fatto tutto per questa manifestazione che è Ralf Stringile, un nodo conduttore, polivalente, sa fare un po' tutto, poliedrico. E quindi un grazie a lui per aver portato anche questa volta una manifestazione importante al Comune di Casalnuovo. Quindi un grazie a lui e un grazie a tutti gli altri organizzatori e soprattutto ai tanti artisti che sono intervenuti stasera.